Il modello di Italy noi consideriamo che sia unico al mondo, abbiamo messo insieme mercato, ristorazione e anche didattica, cioè la scuola, il tutto su cibi di alta qualità. Quando abbiamo incontrato prima con il signor Farinetti, lui parlava di noi sull'esplosione. L'esplosione era di rendere la buona qualità della cibo disponibile a tutti. Noi viviamo di illuminazione, la luce è quella che ci fa vedere in maniera diversa le cose. Potete immaginare quanto è importante nel cibo. Per esempio la scelta dei LED è una scelta fantastica per non creare calore. Un altro elemento molto potente nel uso delle LED è che hai meno consumazione. Quindi questo è un elemento clave, perché rispondono costi e anche la mantenzione, perché c'è una vita molto lunga. non è più facile. Quindi andare a chiedere a degli Olandesi di esprimere il design italiano sembrava strano, ma noi sapevamo che Philips ha acquisito Luceplan, che è un'azienda straordinaria di design italiano. È stata una situazione win-win, perché abbiamo combinato la grande tecnologica e la più italiana del design. Questo progetto non è facile a tutto, in termini di implicazioni tecniche, in termini di tempo, in termini di pressione dal cliente, perché avevamo davvero il suo sogno. Quindi eravamo capire la tecnologia con il design, con il compagno e con i servizi. Un esempio è l'utilizzo di color. Stavamo proposti un'utilizzo di color e è stata completamente rifiutata dal cliente. E poi abbiamo iniziato a imparare le possibilità e continuamente attraverso il cliente, dando idee su come maximizzare. Ora i colori sono elementi principali nella fascia. L'ingrediente della ricetta per fare l'alto sono completamente diversi. L'LED davvero dà ai designer un'opportunità di nuove immagini. Siamo molto contenti di questo risultato perché tutte le persone che entrano qua dentro ci fanno i complimenti per l'illuminazione. Io preferisco che ci faccia i complimenti per il cibo, ma va bene anche per l'illuminazione.